Tra i temi trattati all'Assemblea di Asso Generici per i suoi vent'anni c'è anche la sostenibilità. Ne parliamo con la Vice Presidente dell'Associazione. Che cosa significa sostenibilità e che cosa si può fare per aumentarla? Guardi, io cerco di esordire con un titolo di un libro del Professor Ricciardi, che è Tempesta Perfetta, che è appena uscito. Io credo che in questo momento siamo veramente in mezzo a una tempesta perfetta, dove ormai la sostenibilità sta diventando veramente un tema molto urgente. E in questo momento, al di là dell'Associazione, l'Associazione Generici o meno, ma ci dobbiamo sentire tutti uniti, perché dobbiamo ricordarci anche che il nostro sistema sanitario è unico al mondo e ovviamente questo va difeso. Il tema della sostenibilità è arrivato sia con le richieste di payback, sia con tutto quello che sta succedendo, un fondo inadeguato ovviamente, siamo secondi al mondo in tasso di anzianità, quindi persone superiore ai 65 anni sono ormai il 13% ed è ovviamente esponenziale. Quindi un tema di sostenibilità è ovviamente oggi ci unisce un pochino tutti, quindi io credo e mi auspico che sia un momento in cui mettiamo insieme le forze. associazioni, industria, istituzione, medici e tutti gli stakeholder, farmacisti per portare insieme un grande valore in questo momento. Io credo che sia veramente un momento dove non bisogna stare ovviamente all'interno delle proprie nicchie, ma in realtà fare veramente unione, squadra in questo momento. Quando parliamo di farmaci generici o di biosimilari, c'è corretta informazione? Le persone, i pazienti sono informati? No, io credo che in questo momento ci siano solo degli accanimenti, a volte dettati dai temi ovviamente anche a temi importanti, dove ovviamente una regione magari per cercare di rientrare ovviamente fa delle azioni coercitive, oppure a barriere magari legate al fatto che non c'è stata ovviamente una corretta informazione. Diciamo che il tema non si esaurisce portando e mettendo in commercio un farmaco equivalente, ma è da lì che si parte, perché è lì che si crea e inizia a crearsi la competizione. Visto che insomma siamo tutti poi alla fine anche cittadini, ma anche pazienti, abbiamo familiari, e allora il tema importante è quello di continuare a sensibilizzare non solo l'opinione pubblica, ma anche gli stakeholder, perché la disinformazione c'è e come, affinché l'equivalente non sia né un accanimento, ma sia una scelta consapevole e anche una scelta di qualità. A che punto siamo attualmente con questa sensibilizzazione e che cosa si potrebbe fare per migliorarla? Sicuramente bisogna lavorare un pochino più a fianco con la classe medica, io credo, perché in questo momento chiaramente non è stata un'area di investimento da parte dell'industria in passato e credo che sia un momento importante, proprio perché ormai i temi di sostenibilità sono urgenti, quindi far sì che ci sia più consapevolezza nel mondo ovviamente anche scientifico, anche perché le aziende equivalenti sono aziende multinazionali importanti che continuano a investire in ricerca, in innovazione, questi sono dei temi ovviamente importantissimi sul tema della sostenibilità e poi non dimentichiamoci le aderenze, i progetti dell'aderenza, che sono fondamentali perché spendere soldi dello Stato in farmaci quando poi non sono abbinati ai corretti stili di vita oppure si buttano le scatolette o non si prendono i farmaci è un enorme spreco che impatta ovviamente sui temi di sostenibilità.